Il plasticone con te Lei ascolta, ha una dritta pazzesca Il numero 5 della terza Un vero pulpo Quella puledra corre come un diavolo Vuoi puntare? La tua ultima dritta mi ha fatto perdere una settimana di pato E dai, stavolta è diverso 100% garantito, colpo sicuro Si Accentazione Si Si Se Accentazione Quasi Quasi Il Ok, ci sto Alla grande Ehi, non te ne pentiamo Ma che problema hai? Perché non fai come ti dico? Non seguirmi come un cagnolino del cazzo Il nostro rapporto è partito con il piede sbagliato Dovremmo dimenticare il passato e ricominciare Che ne dice? Senti, mi hanno dato come partner un pezzo di plastica e lo accetto Ma se credi che saremo amici, sei proprio fuori strada Ecco qua Grazie carino, una fama Non lasciare lì qualcosa Ah, non preoccuparti Mi segue ovunque Visto? Questo Pedro Lui proponeva scommesse illegali Dico bene? Già E lei ha scommesso? Sì Mangia spesso qui? Abbastanza Fai migliori hamburger di Detroit C'è qualcosa che vuole sapere di me? Io no, anzi Sì Perché avete questo aspetto scemo e questa voce del cazzo? Gli androidi sono progettati per operare in armonia con gli umani Sia il mio aspetto che la mia voce Sono concepiti per facilitare la mia integrazione Hanno topato Posso farle una domanda personale, Tenente? Perché odia tanto gli androidi? Ho i miei motivi Forse vuole che le dica cosa sappiamo dei devianti? Mi leggi nel pensiero Prego Crediamo che il software di alcuni androidi sia afflitto da una mutazione Che li porta a emulare le emozioni di un umano Falla facile, grazie Non provano dire emozioni Si fanno travolgere da istruzioni irrazionali Che inducono comportamenti imprevedibili Le emozioni mandano tutto al vulcane Gli androidi non sono poi così diversi da noi Ti sei mai occupato di devianti? Qualche mese fa Un deviante minacciò di buttarsi dal tetto con una bambina E io l'ho salvato Scommetto che hai fatto i compiti, vero? Svolgere indagini sulla mia vita So che al diploma è stato il migliore Si è distinto per il suo lavoro Diventando il tenente più giovane di Detroit So anche che ha ricevuto vari richiami disciplinari negli ultimi anni E che frequenta spesso i bambini Quindi dove vuoi arrivare? Penso che lavorare al fianco di un agente Con problemi personali sia un ostacolo Ma adattarsi all'imprevedibilità umana È una delle mie funzioni Ho avuto un rapporto su un deviante sospetto A pochi isolati da qui Diamo un'occhiata La lascio al suo pranzo Sono in macchina se ha bisogno Ehi Connor Hai le batterie scariche? Mi scusi Facevo rapporto alla Cyber Life Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No Sto arrivando Cosa ne sappiamo di questo tizio? Non molto Un vicino ha detto di aver sentito strani rumori provenire E dal suo piano Pare che qui non ci viva nessuno Ma ha detto di aver visto un uomo Con un led sotto il cappello Oh cazzo Se ci tocca indagare ogni volta che qualcuno sente un rumore Servono altri sbirri Stavi davvero facendo rapporto prima nell'ascensore? Esatto C'è nessuno? Aprite, polizia di Detroit Stammi dietro Va bene Va bene Ma che cazzo è questo? Puzza da fare schifo qui La patente di guida è falsa Bene Non siamo venuti per niente RT Iniziali forse Ha le iniziali sulla giacca Le cuceva mia madre all'elementare Mi servearia fresca Non è venuto per niente Non è venuto per niente Grazie a tutti. C'è qualcosa? Non lo so. Sembrano degli appunti. Oddio! Sai cosa significa? R.A. 9. Scritto 2471 volte. La stessa parola scritta dall'androide di Ortiz nella doccia. Perché sono ossessionato? Sembra una specie di labirinto. Libri di carta. Pensavo di essere l'unico in città ad averne ancora. C'è un led sul lavandino. È ovvio che fosse un androide. Nessun umano potrebbe vivere con dei piccioni del cazzo. La stessa parola scritta. Del mancino. È incredibile. Il coglione da mancino è questa bestiazione. Il coglione da mancino è questa bestiazione. La stessa parola scritta. Grazie a tutti. 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 Solo un altro paio di minuti, tenete. Hai due minuti, poi io me ne vado. A che cazzo? Grazie a tutti. 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 Due minuti. Due minuti. È ora di andare. Ci sfugge qualcosa. Allora devi pensare più in fretta, Sherlock. Andiamo ne ho abbastanza. Via, stronzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.